In attesa di autorizzazione, un nuovo indirizzo all'interno dell'offerta formativa dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Sebastiano Mottura, il nuovo liceo quadriennale delle scienze applicate per la transizione ecologica e digitale TED, un progetto nato nell'ambito del Piano Nazionale di Innovazione e Ordinamentale per l'ampliamento e l'adeguamento della sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Next Generation Italia e attraverso la collaborazione con un consorzio formato da imprese e università. Un'opportunità che permetterà agli studenti di apprendere materie che appartengono sia all'ambito umanistico che scientifico attraverso nuove metodologie didattiche ed esperienze anche esterne al mondo scolastico, come soggiorni all'estero o stagio aziendali. È un corso che riproporrà le discipline con una metodologia completamente diversa. Consideriamo di fatti i nuovi ambienti di apprendimento e i contenuti e gli argomenti di discipline come la filosofia argomentativa su problematiche sociali ormai planetarie che sono improcrastinabili, indifferibili, come le nuove povertà educative, le emergenze climatiche e pandemiche. Pensiamo di fatti alla digitalizzazione, all'economia green. Allora, all'interno di discipline come la filosofia, inserire proprio la filosofia argomentativa su tematiche specifiche. Pensiamo discipline come computer science, che sarà trasversale a tutte le discipline per apprendere il pensiero computazionale, per apprendere il coding, ma pensiamo ancora alle discipline STEM, cioè le discipline scienze, tecnologie e matematica, che vengono implementate, vengono rafforzate. Pensiamo alla metodologia CLIL, che deve essere ormai obbligatoria a partire dal secondo anno. Pensiamo ai percorsi di apprendimento trasversali per l'orientamento, la vecchia alternanza scuola-lavoro, che viene rafforzata da che cosa? Da una rete. Noi entreremo a far parte di una rete nazionale di 100 scuole e imprese, sopportate dal consorzio ELIS, che è un consorzio no profit con sede legale a Roma, che metterà a disposizione degli alunni anche delle borse di studio per potere e dei prestiti di onore per supportare le famiglie a partecipare a campi estivi, a campi di lavoro veri e propri e la possibilità ancora di più di essere in rete telematica digitale, compresente, contestuale, con tante scuole che apprendono.